Se un uomo si approfitta di te dirà queste cinque frasi e si tratta di un manipolatore dei tuoi sentimenti. È un manipolatore dei tuoi sentimenti. Allora, prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su Instagram, Massimo Torremasco Ufficiale, ovviamente su TikTok, su tutti i miei canali YouTube. E fai donazioni, se ti va fai donazioni. Allora, se un uomo si approfitta di te dirà queste cinque frasi. Allora, io faccio la versione maschile, però in realtà potrebbe essere anche al contrario. Allora, chi sono le persone che manipolano i tuoi sentimenti? Sono le persone che utilizzano, praticamente, sono le persone che utilizzano le strategie, diciamo così, manipolative facendo leva sul tuo coinvolgimento. Quindi, la manipolazione fa leva soltanto sul tuo coinvolgimento. E sfrutta il fatto che le persone si danno l'illusione di poter ottenere dei risultati. Perché è l'illusione, la speranza di portare il risultato a casa che fa sì che queste persone si lasciano manipolare. Quindi, ovviamente il manipolatore entra nella tua vita, ringrazio Natale, Natale, Natalemba. Il manipolatore entra nella tua vita e la distrugge. Il manipolatore entra nella tua vita e la rovina. E le frasi che dice sono sempre le stesse, più o meno. Quindi, la vera difesa è quella di riconoscere, poi di andare un po' contro alla tua parte emotiva. Perché non puoi accettare di essere manipolata, non puoi accettare e sperare, continuare a sperare che le cose possano cambiare, possano cambiare, quando di fatto non cambieranno mai. Perché se tu hai a che fare con dei manipolatori, non puoi dargli credito, perché altrimenti farai una vita di merda, la tua vita andrà male. Da un punto di vista sentimentale e affettivo starai in stati di sofferenza. Quindi devi riconoscere a tutti i costi le situazioni, devi riconoscere a tutti i costi quando una persona ti manipola, perché è l'unico modo per uscire fuori. Allora, una frase tipica che utilizza le persone che manipolano i tuoi sentimenti, che si approfitta quindi di te, è ad esempio, beh, io amo vivere il momento, vediamo dove ci porterà questa relazione. Non abbiamo bisogno di dare un nome a questa relazione. Perché dobbiamo etichettare questa relazione? Viviamola momento per momento. Allora, di per sé questa frase potrebbe anche andare bene, ma se poi viviamola momento per momento, vuol dire ci vediamo giovedì sera al parcheggio del cimitero, beh, è evidente che tu ti illuderai, no? Che questa relazione possa decollare un giorno, in realtà, in realtà non decolla. Perché lui, no, ma perché dobbiamo condividere con altre persone il nostro amore? Ecco, questa è una frase manipolativa, fortemente manipolativa. Ma perché dobbiamo condividere con altre persone il nostro amore? Ma quale amore? Non ci so, non c'è amore. E' soltanto una presa in giro. E questo però ti provoca in te una speranza. Ti provoca in te una speranza, provoca in te il fatto che tu possa sperare che questa relazione possa decollare. E questa frase, tra l'altro, è molto subdola. Perché dobbiamo condividere con altri il nostro amore? E uno che ti dice una frase del genere ti fa pensare che ci sia amore, in realtà amore non ce n'è. Tu devi guardare i fatti. Quindi questa tipologia di frase è una frase che utilizzano soltanto i manipolatori. Un'altra frase micidiale, tranello o cose del genere è Ho paura di innamorarmi di te. Guarda, sei fantastica, resto distaccato perché ho paura di innamorarmi di te. Anche questa è una presa per i fondelli, grande come una casa. Perché nessuno ha paura di innamorarsi. Perché l'amore non è che viene uno dice, ma adesso decidiamo se mi innamoro. No, lui non è innamorato, non gliene frega un cavolo. E dice semplicemente che ha paura di innamorarsi per tenerti buona, per farti credere che Eh, ma lui mi ama, ma lui mi ama, fa così, ma ha paura, ha paura di innamorarsi. Perché se mi vedo, non ti voglio vedere troppo spesso perché ho paura di innamorarti. Ecco, questa è una frase, diciamo, allucinante. Perché ti tiene praticamente vincolato in mille posizioni. Non ti voglio vedere troppo spesso perché ho paura di innamorarti. E quindi ci vediamo ogni venti giorni al parcheggio del cimitero, al giovedì sera. Ecco, questa è un'altra frase che viene utilizzata tantissimo dai manipolatori, dalle persone che si vogliono approfittare di te, dalle persone che vogliono in qualche modo fregarti. Nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella. Ovviamente seguimi su TikTok, su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale su Instagram. E fai donazioni, non fai la tirchia, fai donazioni che portano sempre bene a chi le fa e a chi le riceve. E allora, un'altra frase che utilizzano i manipolatori che si approfittano di te sono quelli che sono impegnati. E questo io sento tantissime donne che dicono Eh, ma sta con la moglie ma non l'ama. Sta con la moglie ma non l'ama. Sta con la fidanzata ma non l'ama. Sta con quella lì ma non l'ama. Ma non sta con me che mi ama. E questa è un'altra frase ridicola. Ridicola. È una frase ridicola. Se uno ti ama sta con te. Non c'entra se ci sono i bambini, se c'è il gatto, se c'è il mutuo. Non c'entra niente. E infatti queste persone ti dicono Eh sì, sono sposato ma il mio matrimonio non va bene. Per me è complicato in questo momento separarmi. Non ci amiamo più ma ci sono dei Sto con lei perché è per i bambini. Sto con lei per questo, sto con lei per quello. Tutte palle. Chi ti dice questo ti racconta solo ed esclusivamente palle. E ti vuole prendere in giro, vuole manipolare i tuoi sentimenti. Certo ti dà un modo di, come dire, onorevole di accettare una situazione di merda. Perché tu praticamente accetti il fatto che lui stia con la moglie ma tanto non la ama. Sì sta con la moglie ma non la ama. Sì sta con la moglie solo per i bambini. Sì sta con la moglie solo per quello. La moglie o la fidanzata o la convivente o quello che è. Sono tutte palle. Chi ti dice questo sono palle. Perché se amasse te starebbe con te. Punto. Non c'è altro. Non ci sono altre possibilità. Quindi fai attenzione perché persone di questo genere ti prendono in giro. Ti prendono per il culo fondamentalmente. Il discorso è quello. Ti pigliano per il culo. Poi se ti fa piacere farti prendere per il culo. Questo è un altro discorso. Perché può anche darsi che ti faccia piacere farti prendere per il culo. Non è detto che non sia... Non sia... Non è detto. Un'altra delle frasi che utilizzano le persone che ti manipolano sono... Guarda che io non ho mai detto che la nostra è una relazione esclusiva. Guarda che io non ho mai detto che c'è. Certo, non hanno mai detto niente, ovviamente. Iniziano una relazione. Iniziano una relazione come se fosse una relazione normale. Però poi dopo, alla fine, la relazione si svolge nel senso che o tu vai a casa sua o lui viene a casa tua per trombarti e via. Ma una volta ogni tanto, anche qua, queste sono situazioni, invece non sono persone sposate, ovviamente se ti invitano a casa, ma trattasi di libertini. Ora, non c'è niente di male nel libertinaggio, ma il problema è che ti fanno credere all'inizio che la relazione possa essere una relazione conclamata. Questo lo fanno sia le donne che gli uomini. È più un qualcosa di maschile, ma è anche femminile. Le donne utilizzano queste strategie per prenderti in giro, diciamo, e non te la danno neanche, poi fondamentalmente. Ma invece il maschio inizia una relazione, no? Poi però, alla fine, questa relazione non decolla. Passa il tempo e rimangono sempre incontri, a due a due, in casa, o qualche volta per uscire, ma fondamentalmente. E quando tu fai le rimostranze ti diranno, ma io non ti ho mai detto che questa è una relazione esclusiva. Io non ti ho mai detto che noi dobbiamo prenderci degli impegni. Io non ti ho mai detto che, io non ti ho mai detto là. Cioè lui analogicamente ti faceva intendere che ci sarebbe stato. Però poi, di fatto, non c'è mai stato. E quindi questa è un'altra caratteristica, no? Ci sono persone che ci cascano, purtroppo, donne soprattutto, e anche qua perché sono dei comportamenti mancati. Cioè, inizialmente si comportano come se avessero l'intenzione di portare avanti una relazione. Inizialmente si comportano in questo modo, ma poi non vanno mai oltre, non vanno mai avanti. Si fermano sempre. E questo è veramente, come dire, è abbastanza deleterio, no? Perché fa sì che tu, a quel punto lì, non sai più come gestire la tua vita, non sai più come gestire la situazione. E' una qualcosa di, diciamo, di molto, come possiamo dire, è un qualcosa di estremamente negativo questa cosa. E poi, un'altra situazione è le persone che ti manipolano raccontandoti delle cose, cioè creando una narrativa, no? Creando una narrativa in cui ti fanno vivere un futuro. E la loro narrativa è quella che a te fa piacere, ma resta soltanto una narrativa, non diventa mai una cosa concreta. Ad esempio, ti diranno, sì, un giorno ti presenterò i miei amici, ti presenterò i miei figli, ti presenterò la mia famiglia. Un giorno, un giorno, ti presenterò i miei figli, ti presenterò... fanno un discorso, diciamo, dove ti presentano una narrativa da favola che però non c'entra, non c'entra mai, non entra mai nella realtà. E allora il rapporto è completamente squilibrato. Quindi, per riequilibrare, diciamo, questo tipo di relazione, e non c'è altro da fare. Tu devi andare con altri uomini o con altre donne. Devi metterlo all'ultimo posto. Se una persona si comporta con te in questo modo, l'errore più grande che tu puoi fare è metterlo prioritario nella tua vita. Eh, ma io lo amo, io lo amo. L'amore nasce dal fatto che lo metti prioritario, non è il contrario. Se tu non lo mettessi prioritario nella tua vita, non ci sarebbe amore. E quindi devi iniziare, se vuoi portare avanti questa relazione, a comunque frequentare altre persone. Se una persona ti dice queste cose, devi comunque frequentare altri, devi comunque avere altre situazioni, portare avanti altre relazioni, e metterlo, che si comporta in questo modo, o lo metti in cambusa, lo metti in cantina, e lo tiri fuori soltanto quando ti fa comodo. Perché bisogna imparare da questo punto di vista a diventare, a diventare più egoista, nel senso di dare pertanto non di più di quanto ricevi. Perché chi ci piace o chi non ci piaccia, anche nelle relazioni sentimentali e affettive, ci deve essere sempre un doubt death, ci deve essere sempre uno scambio paritario. Se non esiste il doubt death, se non esiste lo scambio paritario, allora significa che queste relazioni sono relazioni squilibrate. E tu, se resti all'interno di una relazione squilibrata, cioè una relazione in cui tu non riesci ad avere tanto per quanto dai, vuol dire che ti innamorerai sempre di più, perché tu darai il dare, ti farai innamorare, e l'altra persona si innamorerà sempre di meno, perché riceverà senza colpo ferire, senza metterci energia. Ecco quindi che devi imparare a gestire al meglio queste situazioni. Quindi l'unico modo è quando capisci che una persona si comporta così in questi termini, nei tuoi confronti, devi praticamente metterla all'ultimo posto delle priorità della tua vita, vedere altre persone, frequentare altre persone, fottertene. E vedrai che ti disinnamorerai, inizierai a disinnamorarti sempre, a disinnamorarti praticamente, quindi il tuo amore scenderà perché la tua energia sarà proiettata verso altri lidi. Questo è quello che devi fare. Se tu impari a fare questo, vedrai che le cose andranno davvero per il meglio. Se non lo fai, andranno davvero per il peggio, perché poi al peggio non c'è mai limite, fondamentalmente. Bisogna, diciamo, dare forza alla propria autostima e ripetere sempre il mantra io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono e andare avanti senza guardare in faccia a queste persone che di fatto ti manipolano, di fatto si approfittano di te, di fatto non ti danno tanto quanto meriti, perché tu ovviamente meriti, perché se per prima pensi di non meritare, beh, è evidente che, come dire, se noi per primi pensiamo di valere poco, figurati quanto penseranno gli altri, questo è un dato di fatto. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramascovicialo, ovviamente su TikTok, fai donazioni, fai donazioni e se il video ti piace iscriviti a tutti i miei canali YouTube e attiva la campanella, perché attivando la campanella riceverai la notifica dei nuovi video.